Il progetto di ingiovanimento e l'albero della vita sono un approccio che richiama la globalità, cioè noi dobbiamo poter utilizzare tutto di noi stessi, tutte le nostre abilità per raggiungere un obiettivo così importante quale il ingiovanimento. Sempre una cosa scontata, ma è importante sottolineare alcuni aspetti. Dal punto di vista, ad esempio, di quello che è disponibile da biotecnologia, oggi possiamo dire che non abbiamo ancora nulla di realmente concreto, efficace e soprattutto disponibile e la prospettiva, seppur non è molto lontana, di avere i primi trattamenti per cercare di mitigare alcune problematiche legate al procedere dell'invecchiamento, però è molto lontana se no addirittura irragionevole pensare di avere la famosa pillola della longevità, cioè qualcosa che può funzionare come slogan, ma in realtà, conoscendo come funziona il corpo dell'essere umano, è qualcosa di probabilmente irrealizzabile, almeno per quello che conosciamo oggi in questo momento. Quindi quello che noi andiamo a fare oggi invece è utilizzare quelle strategie che sono comprovate avere degli effetti positive coordinate per l'obiettivo dell'ingiovanimento, perché l'essere umano, il corpo, ha questa capacità di rigenerarsi. Immaginate nell'antichità, immaginate nei secoli passati o anche nei decenni passati, i cicli di mancanza di cibo alternati da periodi in cui vi era più abbondanza di risorse. Il corpo sa gestire questo tipo di meccanismo e non solo, risulta anche benefico, perché nel momento in cui, a questo dimostrato, vi è un periodo di mancanza alimentare, tutto l'organismo entra in uno stato diverso di utilizzo delle risorse e anche di mantenimento delle funzioni. Quando poi, che ad esempio anche gli organi, il corpo, la massa muscolare, tutto ad esempio rimpicciolisce, i meccanismi interni cambiano, quando si ritorna poi uno stato di maggiore disponibilità di risorse, il corpo ricostruisce sistemi, non solo quindi la massa muscolare, la parte proprio più visibile, ma anche gli organi e i funzionamenti interni. E questa rigenerazione, ad opera delle cellule staminali e dei meccanismi di costruzione cellulare dei tessuti all'interno del nostro corpo, rigenerano tessuti nuovi, funzionanti. E' stato visto che il tessuto rigenerato, ad esempio nel sistema immunitario, questo viene dallo studio del professor Longo, ma anche da altri studi, le cellule che fanno parte del sistema immunitario, che vengono rigenerate, non presentano più le problematiche che avevano ad esempio alcune delle cellule precedenti, che nel frattempo, nella fase appunto di mancanza, sono state eliminate dall'organismo. Quindi al momento in cui vi sono dei periodi, qui entro nel discorso della dieta migliore di giuno, che quindi è lo strumento studiato e messo appunto al dottor Longo, che noi utilizziamo all'interno della nostra strategia di questo percorso, questi periodi molto brevi di carenza alimentare, nel momento in cui si inizia poi ad alimentarsi, generano una creazione di cellule, di sistemi funzionanti meglio di quelli precedenti. E quindi nel proseguire e nel ripetere i cicli di questo genere, si in qualche maniera inverte la tendenza al declino e quindi anche alla creazione di patologie in un corpo sano e soprattutto poi è stato visto che questo tipo di approccio è utile anche in molte situazioni di malattia. Ma questo è l'alimentazione, che l'alimentazione è uno strumento potente in quanto va a spingere proprio questa centralina interna, questa regia interna del corpo, che sa gestire tutti i meccanismi coinvolti nella rigenerazione e di cui, sì, ne conosciamo molti, ma non tutti. È un modo quindi per attivare questa grande potenziale interna e proprio attraverso l'alimentazione. Ma non è sufficiente, perché nel momento in cui io parlo di alimentazione, parlo anche di abitudini e parlo anche di motivazione. Quindi se io non ho una motivazione forte a questo risultato, ad aggiungere il risultato del rigenerimento, accade che le strategie che metto in opera non vengono portate avanti nel tempo e questo significa mancanza di risultato. Dal punto di vista del cambiamento, noi osserviamo tutti i giorni un decadimento delle nostre funzioni. Anche le persone che vivono una vita salutare e cercano di essere attente a quello che è il proprio benessere, osserva quelle che possono essere delle funzioni che vengono a diminuire, addirittura a mancare. E quindi quotidianamente osserviamo questo effetto. Per poter contrastarlo e quindi sostenere una strategia che porti al senso contrario, quindi un recupero di funzioni, un miglioramento di funzioni, dobbiamo lavorare quotidianamente. Quindi è importante la motivazione che sostiene un intervento quotidiano verso l'obiettivo. Dal punto di vista della meditazione, che è l'altro grande strumento che andiamo a utilizzare, è una parola che racchiude tanto. Questo tipo di parola può anche creare dei fraintendimenti, che si immagina a meditazione con qualcosa di strutturato, pensando ad esempio all'immagine orientale che ci è stata data della meditazione o di tecniche strutturate, ma la meditazione non è solo questo. Però in questa parola noi racchiudiamo tutte quelle pratiche e approcci che vanno a muovere l'interiorità dell'essere umano, che insieme alla motivazione può generare dei cambiamenti eccezionali. Quindi ecco che un approccio integrato che vada a lavorare sulla motivazione personale, lavori sulla meditazione, quindi un lavoro interiore che genera effetto biologico, come ormai anche questo è stato accertato da diversi studi, più un approccio sull'alimentazione, tutti insieme, può creare un effetto importante. Ci sono tanti altri aspetti da considerare, esempio il movimento fisico e tanti altri aspetti che poi andremo a studiare nell'arco del proseguo del progetto. Ma quello che è importante comprendere, che voglio lasciarvi come finale di questo video, è che il ringiovanimento è possibile, assolutamente possibile, è la portata di tutti, ma è importante utilizzare gli strumenti che sono a disposizione in maniera intelligente e sinergica, poiché altrimenti è importante iniziare, quindi se siete interessati a far divenire pratica il ringiovanimento e non solamente una bella idea, questo è il posto che può fare per voi, soprattutto sapendo che vi è un'apertura sia all'innovazione che viene dalla scienza medica, biotecnologica, un'apertura che viene invece verso la scienza antica delle potenziali dell'essere umano, che si uniscono, che si fondono, che si coordinano per diventare lo strumento di oggi, perché noi possiamo unire quello che viene dal futuro, e quindi quello che viene dalla scienza più avanzata, con quello che viene dal passato, che viene dalla millenaria conoscenza del funzionamento dell'essere umano, per dare oggi il risultato nella vita personale, nella tua vita, e vivere una vita che sia lunga, estesa nel tempo, sana, quindi con alta qualità e prospera, perché questo è realmente il potenziale che attende ognuno di noi, se lo vogliamo.